Vado? Che cazzo? Un saluto a tutti gli iscritti del gruppo, questa è una macchinetta di Premium Card che conferisce privilegi esclusivi a tutti, prego, mostra bene, va bene così? A tutti, ci sarà una consumazione extra per il nostro evento che faremo molto... Extra addirittura? Extra, sì, con il doppio... Sì, soltanto perché avrà questa preziosissima Premium Card che noi diamo ai nostri amici e nonché sostenitori del gruppo Offre Mancinelli. A tutti? A quelli che sono presenti stasera, prego. Ah, è un'iniziativa promozionale? Certo! Perché... Bravo! Vai Mancinelli! Mancinelli! Ragazzi, chi offre? Mancinelli! Un saluto agli amici che ti seguono da internet dal gruppo. Ciao a tutti e magari sarete più fortunati. Quando avrete questa card sarete sempre avanti a tutti gli altri.